Ok, ho pagato la negra di D-Max Adesso Ho recuperato il mio veicolo sequestrato Daniel ha già distrutto il suo veicolo personale Grazie a Ernesto Il piede lesto Che se fa un cappuccino lesto No vabbè, tagliamolo sto pezzo Ah si, me sta vicino a quello di... Guarda questo addosponato Allora adesso Chiamo la Pegasus Ordino un armato carro How can I help? Are you a special vehicle? For every purpose sir Mi sa che sono pure in modalità passiva Passiva, IVA Ma adesso dove stai? Stai ancora in Cologna? Sì Cosa ho dovuto riandare in città? Ma dove me l'ha messo? Ma dove... Guarda dove me l'ha messo il veicolo Cioè stiamo ai poli in altre parole Allora, chi ammolliamo il cara armato? Io glielo do Io glielo darei a Cristelan Questo qua Basta che non me lo distruggo Il veicolo Cioè poi tutto il resto Ecco, una cosa che devono correggere il cara armato È che il coso non si gira da solo Cioè almeno mettessero la possibilità Ma se ne è andato Ernesto Orpides No no, sta ancora là Sta... C'ha 26 GP inutili No, guarda se mi devo incastrare Ecco, mi sono incastrato Ok Ma che cazzo l'ho fatto? Cosa sto facendo? È il cara armato più gommoso che ho Ho un cara armato gommoso È come... No, perché praticamente ho dato una botta Ma era un attimo incastrato Ho... Con la... C'è presente il cannone? Ho dato una botta a un albero Ha cominciato a rimbalzare da tutte le parti E mi sono sbaggato Oh, l'otopia Bim Ho preso Oh, guarda se sta merda si leva Oh, oh Ho distrutto il babà Forse la dell'Isis Spero che non ho... Eh, vabbè Pronto? Eh, vabbè poi Su Sta a pia per culo Mi sta a nappia Un loiso Vabbè almeno il cara armato non sparisce Su guardiamo il lato positivo Stanno tutti a girare intorno al cara armato Manco fosse oro Grazie Non mi dà una botta? Se mi dai una botta Non ho Te l'ho detto Ho un cara armato gommoso C'ho il cara armato di gomma Ti devo far rivedere sto pezzo Tanto mi vedono Hanno visto Hai detto? Perché ti sei ammazzato? Perché non avevo via di scampo Non avevo via di scampo Dov'è il veicolo? Ah sta là Ci sta uno con l'elicottero giallo è normale? No non è giallo Dai su Vado a riprendere il mio carammato di gomma Eccolo Cioè mi giro un attimo col cannone Fa il casino Rimbalza dove Dove gli pare Destra Sinistra Cosa sta facendo? In punizione Ok Se passo di qua Devo dare sto carammato a qualcuno Basta Francesco 2002 Sei pronto a perdere un po' di soldi? Yeee Che livello è? Cento Comincia a venire Daniel Ma che ca... Mi devo cominciare a preoccupare? Andre Eh? Guarda l'icona mia Tramite una mappa Aspetta eh Ma era in modalità passiva Aspetta eh Eh In modalità passiva Ah no Un carammato No che è oh? Ma che è? L'insulgenio E che veicolo è oh? Eh se vieni qua con l'elicottero Aspetta eh Devo prima Le va un po' di soldi a questo Non si è esploso Non mi spiegate il perché Alleluia oh ma non morivo mica mo faccio spawn al mio veicolo appena è morto mo sto con lenti di xf con lenti di aspetta eh